Il Festival Cori d'Europa fa tappa questa sera alla chiesa dei Salesiani di Via dell'Istria. L'appuntamento prenderà il via alle 20.45 e per primo si esibirà il coro polifonico Monteverdi di Ruda che organizza la manifestazione diretto da Barbara Dibert. Quindi la compagine femminile d'Ange proveniente da Klepeida in Lituania. Alla fine del concerto, assieme, i due cori eseguiranno il brano O Sacrum Convivio di Luigi Molfino, testimonianza di quanto la musica resti un veicolo di scambio e fratellanza fra i popoli. Il coro Monteverdi di Ruda è da sempre paladino promotore della cultura corale in regione. Il Festival Cori d'Europa è giunto alla 24esima edizione. Vi prendono parte compagini provenienti da tutta Europa. Domani a Cividale la manifestazione si chiuderà con un concerto nella chiesa di San Francesco. Inizio ore 18.30, ingresso libero.